Allora ragazzi, ci stiamo veramente divertendo, vero? Tanto, tantissimo, evento stupendo, quest'anno migliore dello scorso anno. Grazie, grazie, chissà perché, ci sono stati dei collaboratori che quest'anno hanno fatto veramente non il doppio, il triplo, il quadruplo. Sì, evento bellissimo, cast artistico ampissimo e vabbè la location, l'organizzazione è veramente impeccabile quest'anno. Che bello essere qui insieme a voi ragazzi, loro sono Salsa Mix, loro sono Nico e Lorella, si sono esibiti ieri sera, grande show, ragazzi, grande show, il pubblico ha applaudito, si è divertito tantissimo anche con voi. Tanto, tanto, ieri grandi show, stasera anche di più, erano di più gli artisti, erano fortissimi, sono fortissimi, appuntamento anche al prossimo anno, anche se domani sarà un'altra serata eccezionale. Domani sera chiudiamo con un cenone spettacolare, quasi 900 persone. Abbiamo fatto il botto quest'anno, abbiamo raddoppiato le persone e poi volevo aggiungere il palco, un palco bellissimo, è veramente emozionante, è un onore essere qua, grazie. Grazie a voi ragazzi, e viva il Bailando Milano Congress. Bailando Milano Congress, appuntamento a domani e al prossimo anno.